In questi giorni, e precisamente il 20 dicembre 2020, è ricorso il 174esimo anniversario della nascita di Giulio Gravlovic, lo scienziato e sismologo italiano che ha dato lustro all'isola d'Ischia, dove ha ideato la famosa vasca sismica. Infatti, essendo studioso di fisica terrestre e cosmica, all'indomani del catastrofico terremoto di Casamicciola Terme del 1883, dopo aver creato un osservatorio provvisorio nel Palazzo Reale di Ischia, ebbe l'ingarico di fondare e dirigere il nuovo osservatorio geodinamico della Sentinella, epicentro del terremoto che sconvolse l'isola d'Ischia. Poiché a quei tempi gli strumenti sismici erano primitivi e per lo più avvistatori empirici, i risultati erano grafici confusi, indecifrabili e scientificamente rappresentavano poco nulla di credibile. Fu lui allora ad indicare la giusta via per ottenere dei sismogrammi leggibili. Divise gli apparecchi tra quelli per onde rapide e quelli per onde lente. Adottò ai registratori i pendoli orizzontali del rebel Paswitz, riuscendo così a catturare con un solo apparecchio le onde sismiche di svariate lunghezze. I suoi pendoli orizzontali furono gli antenati dei sismografi moderni. Ebbene, Grablovitz, dopo quella straordinaria esperienza professionale, non lasciò più l'isola verde. Morì nel 1928 e fu tumulato nel cimitero di casa Nicola. E proprio a Ischia, a distanza di quasi un secolo dalla morte, i nipoti continuano a tenere vivo il suo ricordo e a conservare documenti originali importantissimi. E siamo proprio in casa a Grablovitz, tra i documenti straordinari ed originali, ormai datati più di cento anni e prodotti direttamente dal famosissimo scienziato triestino, come ci ha spiegato il nipote Paolo Capuano. Fra i vari ricordi che conserviamo ci sono anche le poche foto del Grablovitz, perché non amava essere fotografato. Quindi abbiamo foto stranamente sempre a distanza di una trentina d'anni l'una dall'altra. Oltre a questo abbiamo una cartolina molto significativa, che è quella di Favolino. Favolino è stato uno dei più grandi enigmisti italiani, forse il fondatore della società enigmistica. Questo mi spinse a contattare la società enigmistica, alla quale mi rispose dicendomi che Grablovitz è stato uno dei suoi primi fondatori, autori, e si faceva chiamare con il nome di San Giusto, quindi uno pseudonimo. Successivamente invece cambiò il nome in Paolina Grablovitz, che in realtà era la figlia che aveva solo sette anni, quindi era un gioco nel gioco. Oltre a Favolino abbiamo un documento molto importante, che è quello legato a Lenine Sottomarine. perché cosa successe? Nel 1918 il Grablovitz registrò un rumore in mare, un vero e proprio rumore, in quanto era l'esplosione di una mina. Capì quindi che non si trattava di un terremoto, riuscì a localizzare il punto a 20 metri sott'acqua, a largo di Sant'Angelo, e contattò praticamente i militari, i quali dovessero intervenire con dei dragamine, e riuscirono a sminare l'intero golfo. Quindi questa cosa fu un grande prestigio per il Grablovitz. Il Grablovitz è ancora ricordato per i suoi studi in mariografia, difatti abbiamo mostrato un tracciato di un mareografo, e soprattutto un mareografo costruito da lui, cioè progettato e costruito da lui. Inizialmente era impiantato sul porto di Ischia, poi fu trasferito sulla rotonda, sul tondo di Adriano, al centro del porto. Il mareografo e tutta la strumentazione Grablovitz, compresi i tenderi orizzontali, una famosa vasca sismica, che è uno dei primi registratori di telesismi, fu in funzione fino al 1928, anno in cui il bisnonno alla fine ci ha lasciato, il 19 settembre, il giorno di San Gennaro. Quindi alla sua morte decise di rimanere qui, di essere sepolto nel cimitero di Casamicciola, e soprattutto che sulla sua lapide, sulla domba non ci fosse il nome. Probabilmente non voleva essere ricordato come persona, ma semplicemente che fossero ricordati i suoi studi. Ed è questo quello che noi come famiglia in questo momento intendiamo fare, rivalorizzare soprattutto quello che è stata l'opera scientifica del Grablovitz. Cosa aggiungere? Per onorare degnamente la memoria di studiosi come Giulio Grablovitz, che attraverso i loro studi hanno dato tanto alla nostra isola, oltre a ristrutturare e a far ripartire appieno l'attività dell'osservatorio della Sentinella, dove risulta vergognosamente illegibile persino la lapide di marmo che ricorda proprio Grablovitz e che va immediatamente ripristinata, sarebbe il caso che le istituzioni competenti realizzino, nella zona di Casamicciola Alta, epicentro di catastrofici terremoti, un parco scientifico naturalistico internazionale, così come proposto dal professor Giuseppe Luongo, già direttore dell'osservatorio Vesuviano di Napoli e personalità di caratura mondiale nella ricerca scientifica sui fenomeni tellurici.